ciao a tutti ragazzi un po più di brio dato che sto piano piano guarendo da questo covid e finalmente riesco a fare un video un po un po allegro mettiamola così con un po di voce prima di andare a vedere le statistiche della nuova sbc però mi raccomando un follow al canale youtube perché è uscito savanier otm in versione quindi giocatore del mese del campionato francese andiamo a vedere quindi savanier passiamo in game doveva aver già cambiato con il legato incredibile non ho sbagliato questa volta eccoci qua savanier andiamo delle statistiche allora eccolo qua centrocampista avanzato quindi abbiamo 1,72 altezza alto in attacco buono mossi abilità e debole 4 stelle minimo sindacale quindi va bene mettiamola che comunque ci piace su questo punto di vista poi abbiamo velocità solamente 78 e già qui storciamo però il naso 81 di accelerazione scatto 76 ragazzi non si muove non si muove attenzione perché è molto importante in questo momento la rapidità del giocatore soprattutto anche in allungo eccetera tiro 82 poca filetazione abbiamo solamente un 79 mamma mia ma poco 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 quindi un po scarsetto sul tiro passaggi 90 qui molto interessante ovviamente abbiamo il corto 90 89 lungo visione 91 insomma è sicuramente un ottimo regista quindi come al giocatore in grado di impostare o meno è sicuramente interessante dribbling con 89 molto agile qui 93 di agilità con dribbling con tattò 88 contro il pallo 89 insomma sotto questo punto di vista è sicuramente un ottimo giocatore in grado di andare a impostare nello stretto tiene palla comunque bene non è male comunque il 4 di debole si fa sicuramente sentire in positivo ovviamente difesa 78 un po particolare questo questa caratteristica perché ha 88 di intercettazioni quindi è un giocatore che a livello difensivo può aiutare 78 di difesa con questo con questa caratteristica potete provare a usarlo come cdc attenzione però lettura difensiva molto bassa 76 quindi occhio perché è molto manuale a livello difensivo quindi se decidi di usarlo come cdc bisogna essere abbastanza abili non ve lo consiglio però se qualcuno vuole provarlo poi mi faccia sapere il caso fisico e va bene 78 con 88 resistenza forza 71 un po basso però molto aggressivo quindi diciamo che come cdc potrebbe anche non dico essere eccelso però potrebbe funzionare però ci conviene andare a sbloccare questo savani e costa poco è comunque non è non è altissima l'SBC qui abbiamo un ttv con 82 di media e qui un 84 quindi ci va a costare settantina un'ottantina di k circa è una qualcosa di simile il vero problema è che savani e non ha solamente questa versione potenziata ne ha diverse andiamo a vederle cambiamo la schermata eccoci qua ce ne sono un po di versione questa è la ptm quindi la giocatore del mese però al contempo abbiamo la eyeliner quindi i protagonisti che si upa anche quindi può uparsi quindi e costa il 94 il 500 se andiamo a quello qua è uscita adesso la il prezzo del ptm sugli 80 circa 70 80 secondo me qualcosa cala e in questo momento appunto abbiamo l'headliner che è vera 100 adesso è giacato quasi 10k se ma 94 scenderà sui 90 secondo me qualcosa di simile quindi io partiamo dal presupposto che come giocatore non è che mi fa impazzire quindi non lo sbloccherei a livello proprio di giocatore del mese come come sbc se invece volete provarlo per vedere se vi piace o meno provatevi la versione del liner costa qualcosina in più però vi recuperate in caso i creti e questa versione è anche comunque appabile appabile appagabile nel senso a seconda dei risultati che faranno poi la squadra di appartenenza il giocatore prenderà un più vediamo un attimino la differenza col ptm e insomma è un po più rapido meglio con i tiri con la difesa è meglio il ragazzi meglio l'headliner se volete prendere savanier pigliatevi l'headliner e non sbagliate lasciate perdere il ptm in quel caso qua quindi non andiamo neanche a vedere le alternative o meglio andiamo a vedere tanto siamo già dietro non è un problema però già tra ptm headliner fatevi l'headliner non stiamo qua a impazzire su cose non scambiabili che non hanno assolutamente senso andiamo a vedere su invece le alternative come giocatori a livello di ruolo quindi abbiamo detto che è un centrocampista un po troppo indietro no ci sta che pagina sono andato alla prima perfetto no all'ordinato al contrario ci siamo eccoli qua allora come alternative abbiamo claudio maurizio che è forte comunque ottimo assolutamente guainaldo no troppo caro ma allora allora claudio maurizio è una buona alternativa claudio maurizio però è un po' un gioco è un po' diverso come giocatore quindi qui a livello diciamo di alternative dipende un po' come dovete farlo giocare se come cdc evitate assolutamente secondo me andate direttamente sulla versione headliner oppure effettivamente pensate a claudio maurizio oppure magari se avete qualche credito in più c'è magari guendosi che è fortissimo e insomma c'è un po' di alternative sicuramente quindi torniamo un attimo in regia ragazzi non è questo come dicevo prima questa vanier ha poco senso essere utilizzato e sbloccato il po tm vi piace il giocatore fatevi l'headliner costa qualcosa in più però è scambiabile e si può oppare quindi molto meglio l'headliner fatemi sapere invece nei commenti se avete deciso di sbloccare questo po tm se vi trovate bene o meno come come vi trovate effettivamente come al solito follow il canale youtube mi piace il video ragazzi e niente ciao a tutti e al prossimo filmato